domani sarà una partita tosta contro secondo me l'organico più forte del nostro girone una squadra completa in ogni reparto tante alternative non so chi farà giocare domani il mister però sicuramente chi giocherà sono giocatori di qualità giocatori di categoria che conoscono bene questa categoria e hanno sono molto pericolosi quindi dobbiamo stare veramente attenti abbiamo lavorato un po sulla testa non abbiamo tanti giorni per fare questa partita però sull'aggressività sulle cose che un pochino ci sono mancate nella partita dell'ultima partita di venerdì sicuramente li guarderemo li vedremo dal vivo noi come staff studiamo sempre gli avversari però comunque domani sono una partita magari un pochino diversa che cambieranno un po di interpreti sia da parte nostra che da parte loro però il modo di giocare quello quindi sicuramente potrebbe essere un vantaggio anche giocarci contro prima oggi allenamento purtroppo si è fermato vaghi una leggera distorsione quindi non sarà con noi domani al pari di nico che ha sentito dolorino alla parte di venerdì e a mallamo che è fuori da un pochino di tempo quindi speriamo di recuperarli presto grazie a tutti